è stato presentato qualche minuto fa e diamo un occhio a come è fatto il nuovo oneplus nord che è stato presentato ai media con questa meravigliosa confezione che racchiude non solo il telefono per l'appunto oneplus nord ma anche alcune delle cover che saranno messe in vendita una che richiama insomma il colore marble blu una in versione invece trasparente e quest'altra invece gommosa in versione nera ma cosa contiene la scatola del telefono come sempre oneplus ha una confezione comunque che è discretamente ricca ovviamente c'è il telefono poi ne parliamo all'interno anche una cover in silicone non del tutto trasparente vedete che c'è questo richiamo a questa indicazione verso il nord e poi il caricatore che è il warp charge da 30 watt e il cavo abituale di ricarica con questo caricatore la promessa di oneplus è di andare da 0 a 70 per cento in 30 minuti quali sono le caratteristiche tecniche intanto un display amoled da 6,44 pollici con un refresh rate a 90 hertz molto fluido velocissimo in tutto ciò che fa peraltro bisogna dire che il processore che lo snapdragon 765 con 8 o 12 giga di ram è veramente un piccolo siluro la memoria 128 256 giga non c'è l'espansione di memoria che a oneplus non piace molto quattro fotocamere sul retro e due sul fronte poi nei prossimi giorni avremo modo di affrontare proprio la recensione completa di questo smartphone che ha un lato con il controllo del volume per noi volume rocker dall'altra parte invece il pulsante di accensione e il classico slider lo vedete quello con cui si inserisce si toglie la suoneria purtroppo brutte notizie per gli amanti del diciamo del connettore jack da 3,5 mm perché è stato tolto da questo telefono che ha un cassettino con lo spazio per due sim nano il processore 765 già vuol dire che questo è un telefono che supporta il le reti 5g e questo ovviamente per alcuni di voi soprattutto quelli che abitano nei grandi centri urbani può essere importante fotocamera la principale da 48 megapixel è la stessa che si trova su oneplus 8 poi c'è un grand'angolo da 8 megapixel con 119 gradi di apertura una fotocamera macro da 2 megapixel e una di profondità invece da 5 megapixel si possono girare filmati in 4k a 30 frame al secondo con stabilizzazione elettronica e ottica che lavorano in maniera combinata sulla parte frontale invece per la prima volta due sensori fotografici uno da 32 megapixel tra l'altro in grado di girare video in 4k a 60 frame al secondo e poi un grand'angolo invece da 8 megapixel per inserire un sacco di amici nelle foto il software è quello che conosciamo bene oxygen nella versione 10.5 quindi vuol dire una versione di android comunque leggera ci sono ben 300 miglioramenti che oneplus sostiene insomma di aver fatto al software come detto sostegno e supporto alle reti 5g display amoled con refresh rate a 90 hertz batteria 4.125 4.150 mili ampere con la ricarica che in 30 minuti va da 0 a 70 per cento 8 12 giga di ram 128 256 giga di memoria e tutto sommato un utilizzo molto gradevole nei prossimi giorni la recensione alla prossima